Bene, buonasera a tutti e grazie della vostra presenza, attenzione. Devo sapere se va bene l'altezza del microfono, se parlo così va bene? No? Non si sente? Infatti lo sento un po' basso. Forse così? Bene. Ma guardate, agli assenti, io tenterò di capire se sono assenti gli assenti. O invece no. O invece esiste una modalità di rapportarci a un'assenza che c'è in un modo tale che gli assenti non siano assenti ma siano presenti. Forse sono più presenti tanti assenti che non viceversa, che non persone che sono presenti accanto fisicamente ma che non ci dicono niente, che non ci nutrono. Una presenza fisica che non è al contempo una presenza emotiva, spirituale, nutritiva. E invece magari ci sono persone che davvero sono assenti, fisicamente parlando, che sono presenti dentro di noi e senza le quali non potremo vivere e che ancora ci nutrono con quel sorriso, con quella carezza, con quegli abbracci che abbiamo ricevuto, ancora sono con noi e saranno sempre con noi. Quindi assenti, presenti. Tra l'altro assenti a me viene in mente l'appello, no? A scuola. Assente. Una volta mi ricordo che le mie compagne di classe mi dissero al liceo, al liceo classico di Desio, mi dissero che la professoressa di biologia era entrata in classe, c'era parecchio rumore e dice, mancuso, silenzio! E dice, no, ma mancuso è assente. E infatti così andò, perché si era fissata con me. Sapete, i professori ogni tanto prendono qualcuno e si era fissata con me perché non ero molto attento alle sue lezioni, alle sue... Ero supponente. Ero supponente. Una volta le dissi, ma scusi, abbiamo appena parlato di Platone, adesso arriva lei e ci parla dei vermi e io pretende che io sia presente. se mi avesse spiegato che senza i vermi non ci sarebbe Platone, non ci sarebbe vita umana, perché tutto, ogni vita, ogni forma di vita è legata a quell'altra. Se mi avesse spiegato che tutto è interconnesso, che se ami veramente lo spirito, non puoi non amare la materia. Se ami veramente il psichè, non puoi non amare Bios in tutte le sue forme. Beh, se mi avesse spiegato questo magari avrei studiato Biologia, invece no, non me l'ha spiegato e ho fatto proprio il contrario, ho studiato Teologia, proprio Liber Uranio, no? Va bene. Vedete, il titolo che mi ha proposto, perché è suo, questo bellissimo titolo suo di Armando, Armando Buonaiuto, che ringrazio per invitarmi ormai da tanto tempo, per l'amicizia, per gli stimoli, per questa cosa che fa, per Torino Spiritualità, che è una delle manifestazioni culturali più belle e più nutritive. Sto attorno a dire nutritive, perché abbiamo bisogno di nutrimento. Meno nutrimento fisico, probabilmente più nutrimento psichico e spirituale. Beh, il titolo è suo. E cosa presuppone questo titolo? Istruzioni per arrivare vivi alla morte. Beh, presuppone, è ovvio, tutti voi lo capite, che si può arrivare morti alla morte. Cioè, si può vivere come esseri umani, ma non da esseri umani. Si vive a metà, anche meno di metà. Si vive come esseri umani, vivendo come vivono i vermi, con tutto il rispetto per i vermi. Come vivono i vermi? Ma i vermi, immagino, lo ripeto, già da allora non ero un esperto, però cercano di obbedire all'imperativo biologico essenziale di ogni forma di vita, nutrizione e riproduzione. Non è così? Ogni forma di vita ha iscritta dentro di sé questa legge, questo imperativo, questa necessità. Mi devo nutrire e mi devo riprodurre a servizio della specie. Le due cose sono collegate. Si può vivere così. Anzi, si può vivere noi come esseri umani togliendo anche la seconda, il servizio alla specie. No, quale specie? Servizio è unicamente rivolto a me. Anzi, io sono convinto che una delle caratteristiche del nostro tempo sia esattamente questa, sia quella di avere un nuovo Dio. un nuovo Dio. L'Occidente ha avuto secondo me quattro divinità. Cosa intendo per divinità? Intendo il valore assoluto, intendo il desiderio assoluto, la passione, ciò che ti muove, il motore, il motore, ciò che ti muove. intendo ciò rispetto a cui non discuti più. Finalmente, si dice questo, si evoca questo e le bocche si chiudono. quando si diceva nel nome di Dio sta scritto, è Vangelo, è uno taceva finalmente e c'era un punto comune di accordo. Ecco, noi abbiamo avuto noi, proprio come Occidente, secondo me, quattro divinità. la prima è stata la natura come tutto il mondo. Tutti gli dèi all'inizio erano dèi della natura, natura. Poi questa natura è diventata natura più cultura e questa è la prima grande divinità. Gli dèi sono natura più cultura. Ci sono dèi che sono totalmente personificazioni delle forze vitali, potenti, prepotenti della natura. Artemide, la foresta, Poseidone, Nettuno, il mare, Urano, il cielo, Gea, la terra, Demetra o anche Cerere, la terra in quanto madre, in quanto produttrice di cibo, madre terra, paciamama, ciò che dicono oggi in Sud America, paciamama, i popoli andini. E poi la cultura, Apollo, Ares, le muse, anche la guerra è una forma di cultura, l'arte della guerra, Zeus, il potere, la politica. Va bene, prima forma, seconda forma, la sovrannatura, quando Dio è diventato a sovrannatura, sovrannatura, Dio, quando hanno triunfato i monoteismi, il monoteismo in Occidente. La terza è quando il valore assoluto è passato dal Dio allo Stato e così è nata la modernità. La modernità è consistita nel passaggio dall'assoluto sovrannatura all'assoluto storico, statale, sociale, effettuale, se volete anche economico. E infine i nostri giorni segnano l'avvento di una nuova divinità che è l'Io, l'Io, Dio, io, il Dio, io, e quindi il Dio dell'economia e quindi il Dio dell'estetismo e quindi va bene queste cose. Questo Dio non dà nessuna risposta all'assenza. mentre gli dèi precedenti sapevano capire, interpretare la domanda che proviene dall'assenza, l'angoscia, l'angoscia che proviene dall'assenza, il Dio dei nostri giorni che è il Dio io, il Dio dell'efficienza, il Dio del successo, il Dio del desider, la cui espressione fenomenologica è il narcisismo e il cui culto è la finanza, lo shopping, la cui liturgia proprio quotidiana è questa cosa qui, beh questo Dio non conosce, non può conoscere il negativo, tantomeno il negativo più negativo che c'è, il nero, il nero più nero che c'è, cioè il lutto, cioè l'amore, il lutto è sparito. Prima era ogni presente, adesso è sparito, è sparito il lutto ma moltissimi si vestono di nero, il nero è uno dei colori più, come mai? Non lo so, non mi avventuro negli questi tipi di risposte, lo noto, lo constato. Bene, se si, se si accantona il negativo, si vive in maniera superficiale, noi viviamo in maniera superficiale, questa società è la società del divertimento, si vive in funzione del divertimento, il centro vitale di queste, sono i fine settimana, sono il divertimento, il lavoro è semplicemente uno strumento perché il divertimento ci possa essere, il centro è il divertimento, ma capite che il divertimento, lo dice già la parola, divergere, allora questo è il versus, questa, alla destra, alla sinistra di questa sala, questo è un sentiero, un sentiero, un cammino, un camminamento, c'è un verso, un verso, ecco, io cammino e se cammino in questo verso io ho un un percorso, verso, un percorso, c'è un verso e io, verso che è sia sostantivo sia avverbio, diverso, divertere, vuol dire che rispetto a questo centro c'è una diversione, c'è un andare fuori, qualche volta nella vita bisogna andare fuori, semele in anno, lì c'è tinsanire, qualche volta, una volta all'anno si può, è giusto, una volta alla settimana, ma se io continuamente sono con la mente non nel verso, ma nel diverso, per divertirmi, per divergere, rispondete voi cosa succede, non sono centrato, non sono dove la natura mi ha posto, sono alienato, un tempo c'era l'alienazione che veniva dalla religione, ecco adesso c'è un altro tipo di alienazione che viene, che proviene dalla fiction e dal divertisman e così via. Siccome però si muore, purtroppo, ancora, siccome ci sono le malattie, siccome ci sono i conflitti, siccome c'è quella pasta esplosiva che si chiama, come la chiamate la vostra pasta esplosiva? Quella cosa qui, come la chiamate? Carattere, temperamento, psiche, emotività, sé, anima, insomma, quella cosa qui, la dinamite, Nietzsche diceva io non sono un uomo, sono dinamite, aveva ragione, ma anche lei è dinamite, anche lei è dinamite, anche lei, anche tutti noi siamo dinamite, ciascuno cosa credeva di essere speciale, sì lo era, ma tutti lo siamo, speciali, nel senso che abbiamo un esplosivo che può esplodere ma può anche implodere, uno dei grandissimi problemi è quando il nostro potenziale invece di ah, finalmente esplodere, rimane lì, rimane lì, rimane lì, c'è una tensione, qualcosa, vogliamo dire, vogliamo fare, sentiamo che siamo qui per qualcosa di grande, per gli dèi e abbiamo a che fare con il Dio delle piccole cose, la quotidianità, che attenzione, la quotidianità nella misura in cui la interpreti come straordinarietà, allora è straordinaria, ma se, ma ci devi lavorare perché giunga essere questo, e quindi succede che si arriva morti alla morte, appunto, che non si arriva vivi alla morte, succede che una parte di noi muore, una parte di noi che vorrebbe fiorire, che vorrebbe esplodere nel senso bello del termine, proprio come Nietzsche diceva di se stesso, sono dinamite, cioè io quando arrivo io esplodo e demolisco, ecco questa parte viene meno e si passa la vita così, c'è un apologo di De Mello che adesso vi leggo, tutti voi immagino conoscete il gesuita di origine indiana Anthony De Mello, immagino, è morto da tempo, è un assente, ma un assente che è presente perlomeno in chi ha letto i suoi libri e in chi li può leggere, morì nel 1987, quindi veramente ormai diversi anni fa, nel 1990 uscì negli Stati Uniti un testo dal titolo Awareness, che significa consapevolezza, consapevolezza, la copertina originaria era appunto introdata così e c'era un occhio aperto, un occhio, io so bene queste cose perché acquistai i diritti italiani, allora ero consulente, non è consulente, ero proprio editor della casa editrice PM di Casale Monferrato, acquistai i diritti di questo libro, capì che un libro è un libro bellissimo, salva vita, quei libri che ti possono trasformare, noi siamo anche parola, una delle caratteristiche che è la specie umana è la loquacità, essere intrecciati di parole, ci sono parole che ci possono uccidere, possono uccidere una parte di noi, ci sono parole che possono risuscitare quella parte di noi, ci sono parole che ci possono ferire, ci sono parole che ci possono guarire, vedi alla voce interiorità e tutti voi, ma sono sicuro perché è così, perché la conosco la vita umana ormai, tutti voi avete ricevuto e se ci pensate delle parole curative e delle parole il contrario di curative, è evidente, va bene insomma questo libro di De Mello ha una grande forza e io capì che tradurlo in italiano con consapevolezza non avrebbe aiutato granché il libro a diffondersi e allora pensa che ti ripensa trovai un titolo diverso che è messaggio per un'aquila che si crede un pollo e il libro è arrivato a vendere e continua a vendere più di un milione di coppie arrivò a vendere inquietò così tanto il Vaticano allora c'era Giovanni Paolo II e la congregazione della dottrina della fede il nome moderno dell'inquisizione era diretta da Josef Ratzinger lo inquietò così tanto il successo di questo libro che nel 1998 uscì una nota dottrinale della congregazione per la dottrina della fede che diceva di stare attenti a questo libro perché contiene affermazioni inconciliabili con la dottrina cristiana cattolica e per questo può procurare seri danni laddove è vera la prima parte ed è falsa la seconda è vera la prima parte ha delle dimensioni che sono delle visioni non è dualista ha una visione unitaria del mondo è indiano di Gesuita di Mello quindi non ha rinnegato ha saputo conservare la visione unitaria del mondo del cosmo che proviene dall'India in generale dall'Oriente quindi sì ha delle prospettive inconciliabili ma non procura gravi danni anzi esattamente perché è inconciliabile per alcune cose per alcuni aspetti sana sana guarisce le ferite che la psiche occidentale ha a seguito di una certa impostazione dualistica attenzione non intendo dire che gli indiani o i cinesi o le religioni orientali siano superiori all'occidente chi ha letto ma anche solo una riga delle mie prospettive sa che non la penso così intendo dire che ci sono degli aspetti dell'Oriente che aiutano l'Occidente ci sono degli aspetti dell'Occidente che aiutano l'Oriente e che il vero compito non è quello di convertirsi gli uni negli altri ma è quello di capire le proprie unilateralità e come si dice le positività della posizione avversa e abbracciarsi abbracciarsi finalmente dimettere questo aspetto del primo della classe della supponenza io sono la religione assoluta non c'è niente di assoluto nel tempo e nello spazio tutto è relativo che non vuol dire relativismo vuol dire relazionalità relazionalità va bene il libro di De Mello si apre con questo apologo che spiega l'origine del titolo e che fa capire che si può arrivare morti alla morte che si può vivere senza aver vissuto in pienezza e ti fa anche capire questo apologo che cosa bisogna fare per vivere per vivere veramente ecco per vivere con tutta la pienezza della propria esistenza allora vi leggo io posso togliermi la giacca scusate perché sfudo proprio un uomo trovò un uovo d'aquila e lo mise nel nido di una chioccia l'uovo si schiuse contemporaneamente a quelli della covata e l'aquilotto crebbe insieme ai pulcini per tutta la vita l'aquila fece quel che facevano i polli del cortile pensando di essere uno di loro frugava il terreno in cerca di vermi e insetti chiocciava schiamazzava scuoteva le ali alzandole da terra di qualche centimetro centimetro trascorsero gli anni e l'aquila divenne molto vecchia un giorno vide sopra di sé nel cielo sgombro di nubi uno splendido uccello che planava maestoso ed elegante in mezzo alle forti correnti d'aria muovendo appena le robuste ali dorate la vecchia aquila alzò lo sguardo stupita chi è quello? è l'aquila il re degli uccelli rispose al suo vicino appartiene al cielo noi invece apparteniamo alla terra perché siamo polli e così l'aquila visse morì come un pollo perché pensava di essere tale fine della storia questo è il libro appunto ha come sottotitolo la lezione spirituale della consapevolezza si arriva morti alla morte cioè non si vive come un essere umano sviluppando tutte le proprie potenzialità se non si è conformi alla propria natura il pollo vive come un pollo e arriva e arriva vivo alla sua morte perché? perché il vicino dell'aquila ha risposto noi apparteniamo alla terra ed era sereno nel dire questo nessun rimpianto c'era davanti a lui è fatto così il pollo l'aquila no e il senso di questa di questa storia è quella di insegnarci appunto che noi siamo un'aquila certo perché altrimenti non l'avrebbe e perché siamo un'aquila noi esseri umani perché siamo consapevoli noi siamo conformi alla nostra natura nella misura in cui capiamo di non avere natura o meglio di averla e questo è il nostro verso ma di poterla superare interpretare correggere trasformare creare in modo nuovo questa trasformazione della natura ha un nome che si chiama cultura la cultura è la libertà più la natura hai la natura la natura è necessitante lo sapete è necessitante i vermi di cui la professoressa spiegava nell'ora dopo di Platone i vermi sono vermi e vermi rimarranno erano così diecimila anni fa dico diecimila chissà quando sono sorti i vermi se avessi studiato potrei essere più preciso ecco e ancora così saranno e ancora così saranno noi diecimila anni fa eravamo diversi rispetto ad adesso migliori e peggiori lo lascio lo lascio interpretare a voi c'è chi pensa e ritiene che eravamo migliori che una delle più delle grandi sciagure della storia umana sia stata la scoperta dell'agricoltura perché da lì è nato quella tensione malvagia malevola che ha spezzato il nostro legame con la natura da lì noi siamo usciti da questo sacro binario di madre natura e da lì tutti i nostri malanni siamo ricchi tecnologici ma infelici c'è chi pensa così io non penso così non penso che siamo felici non penso neanche che siamo infelici penso che la storia abbia un senso e che questo senso che si chiama cultura sia esattamente la strada che dovevamo percorrere che la mente e la consapevolezza che proviene dalla mente non sono qualcosa che noi non avremmo dovuto esercitare è l'esercizio della consapevolezza che ti porta a capire le forze naturali che ti porta a capire le forze culturali che ti porta a creare civiltà con una parola civiltà si chiama cultura quindi voi avete e questo è possibile perché siamo liberi o almeno lo possiamo essere in parte non siamo necessitati noi umani non siamo necessitati e quindi cambiamo e quindi deragliamo certo e quindi siamo cattivi malvagi ma anche anche il contrario siamo anche generosi buoni creativi siamo siamo questa antinomia strutturale commovente e e al contempo non so qual è l'aggettivo che per dire ripugnante ecco quello che cercavo commovente per la bellezza e al contempo ripugnante che è l'umanità suprema intelligenza e 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 questa è la condizione sine qua non la condizione imprescindibile grazie alla quale la natura diventa cultura e questo è ciò che ci rende aquile che ci può rendere aquile e se non facciamo questo rimaniamo polli non c'è niente di male essere un pollo se uno è un pollo è è sbagliato essere un pollo se uno è un'aquila quindi libertà è la libertà la madre della cultura la libertà si dice come si dice come io un giorno mi sono chiesto ma quando è che mi trovo davanti a un uomo libero quando è che guardando un essere umano uomo o donna che sia io 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 dico a me stesso ecco un uomo libero una bella domanda che è arrivata le domande arrivano uno cammina gli arrivano le domande e mi sono risposto così quando sono in presenza di quando vedo che questo essere umano è consapevole creativo e responsabile queste sono le tre caratteristiche la cui unione la cui suprema unione la cui alchimia meravigliosa dà quello stato della mente e del cuore che si chiama libertà la quale non c'è sempre se non c'è consapevolezza creatività e responsabilità non c'è libertà ma ci può ma si può aggiungere a essere così qualche volta nella vita qualche volta nella giornata perché sapete ci sono le giornate delle giornate nelle quali la libertà appare facciamo delle cose che sono così consapevoli sappiamo perfettamente quello che stiamo facendo sono creative perché perché vengono da noi non le facciamo ripetendo e sono responsabili perché le facciamo per rispondere responsabilità viene da rispondere per rispondere a una domanda dell'ambiente dei nostri cari di un albero alla domanda alla domanda della vita quando voi intrecciate queste tre cose avete avete la libertà e il primo livello della libertà ho detto è la consapevolezza e mi concentro sulla consapevolezza perché 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 stiamo parlando di arrivare vivi alla morte vivi vivi arrivare vivi arrivare vivi vuol dire essere consapevoli io penso che sia necessario trovare nella propria esistenza una serie di pratiche di momenti di attimi di silenzio per esercitare per esercitare la consapevolezza penso sia proprio una necessità così come abbiamo necessità di mangiare così come abbiamo necessità di bere così come abbiamo necessità di viaggiare così come abbiamo necessità di leggere di essere con gli amici di essere insieme di essere in compagnia allo stesso modo io penso che abbiamo bisogno di momenti di raccoglimento di essere soli non soli nel senso di isolati sei isolato quando gli altri ti tagliano fuori e questo non va mai bene sei solo quando sei tu a tagliare fuori il mondo e gli altri il rumore quando finalmente non compri più il rumore noi compriamo il rumore compriamo quando uno si abbona alle cose il rumore entra il rumore immagini il rumore ecco no io non ho niente contro questo ma nella misura in cui questa dimensione elimina la possibilità del silenzio interiore del raccoglimento della meditazione dell'attenzione l'attenzione quanto è capace la tua mente di essere attenta ferma di non volere altro se non custodire proteggere capire quello che avviene quella persona ti sta parlando e tu stai attento a quello che dice e se ti viene da dire delle cose le metti da parte magari prendi appunti magari ma no stai attento che finisca attento concentrato come una devozione un atto di culto verso la persona che sta parlando attento quando voi producete questa energia vostra interiore e la donate con la vostra attenzione donate questa energia a qualcuno che sta parlando un vostro caro un vostro beh voi fate sì fate qualcosa di estremamente prezioso forse l'universo non conosce un'energia così raffinata così preziosa così pulita così distaccata da sé che si pone in ascolto quasi un ascolto musicale come quando vi ponete di fronte a un grande concerto un grande film e si sta in silenzio attenti e chi l'ha detto che quello che ti dice tuo figlio non possa essere un grande concerto e ti ascolti e una volta tanto metti a tacere quello che hai e ti ascolti ma dico tuo figlio per dire qualunque altra persona cara si possa va bene questa questa consapevolezza è la vera cultura la vera cultura è questa qui il vero culto culto e cultura hanno la stessa radice quando voi esercitate cultura avete a che fare con la cultura avete a che fare con il culto perché tutto viene da colo colere che in latino significa esattamente coltivare esteriormente e allora avete l'agricoltura interiormente e allora avete il culto l'adorazione la venerazione ed è fortunato chi di voi ha un'idea un'ideale una divinità da venerare un'ideale la politica con la P maiuscola il bene comune la scienza la ricerca l'arte la poesia oppure 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 una divinità oppure l'angelo custode oppure la madonna oppure il buddha oppure quello che volete voi ma questa è cultura questo culto è cultura perché è quella coltivazione l'agricoltura non riguarda solo i campi riguarda anche il nostro ager agri viene da ager naturalmente vuol dire campo no agricoltura la coltivazione del campo ma anche dentro di noi c'è il campo e quando si esercita la consapevolezza uno potrebbe dire si capisce che c'è la morte e quindi Vito Mancuso che cosa mi stai dicendo io sono consapevole sono consapevole ed essendo consapevole capisco che ogni respiro che faccio mi conduce alla fine proprio la consapevolezza dell'esistenza della vita mi fa capire che è tutto effimero che tutto passa allora sai cosa c'è è molto meglio dice chi obietta non pensarci infatti Montegna nei saggi dice il rimedio del volgo è di non pensarci e infatti noi siamo giunti a divinizzare l'ego e abbiamo e abbiamo questa macchina che produce fiction che produce romanzi letteratura che produce viaggi che produce emozioni social connessioni a cui siamo costantemente connessi e così via probabilmente proprio per non sentire cosa? la consapevolezza non sentire l'angoscia uno dice sì sì sai cosa c'è essere aquila significa vedere le cose dall'alto se vedo le cose dall'alto capisco che finirò capisco che c'è quel burrone allora è molto meglio vivere tranquillo da pollo ma almeno vivo e non ci penso e perché ci dovrei pensare nunc et in hora mortis nostre ora pronobis nunc et in hora mortis nostra no no lascia perdere queste parole antiche lasciale perdere l'ora della nostra morte no lasciala perdere l'ora memento mori no vi ricordate era un detto dei trappisti fratti trappisti ricordati che deve morire io non posso ripetere memento mori ricordati che deve morire senza vedere la faccia di Massimo Troisi non ci resta che piangere lui è benigni il predicatore savonariato savonarnano savo vabbè insomma un discepolo di savonarola che appunto gli grida sulla faccia così perché la religione molto spesso ha usato il pensiero della morte per terrorizzare le persone era esattamente il contrario forse noi adesso stiamo è proprio una specie di rinculo sì è un termine che fa un po' ridere però esiste cioè sì rebound si dice in inglese che suona meglio ecco prima un pensiero ossessivo messe da morto in continuazione drappi funebri funerali lutti io ricordo quando andavo in Sicilia io sono siciliano di origine andavo in Sicilia già in Lombardia dove sono nato e cresciuto io ce n'erano meno qualcuna ma in Sicilia ce n'erano molte di più di donne vestite di nero tutta la vita perché muore il padre e ti vesti di nero per un certo periodo poi ti muore un altro parente allo zee e ti vesti di nero poi il marito tutta la vita vestita di nero adesso è il contrario adesso è il contrario e quindi il rimedio del volgo è di non pensarci e di non pensarci però non è così perché questa realtà esiste esiste lo sappiamo gli ospedali ci sono i cimiteri anche e non serve a niente esorcizzare non pensarci o sorridere ridere ci sono anche le pubblicità dei funerali che a volte sono sarcastiche dissacranti le pubblicità delle bare intendo dire delle imprese funebri la mettono sul ridere su questo sarcasmo uno ride sopra qui ridi ma qui dentro qua non ridi dentro qua non ridi è un ridere a metà che si ferma qua è un ridere che ne è sì non pieno non c'è la differenza tra comicità e umorismo questa è comicità comicità sarcasmo non è umorismo l'umorismo rimanda comicità rimanda a comos comos è un crocchio di persone che ridono e di solito ridono in quanto deridono se ci pensate nella comicità c'è sempre qualcuno attorno a cui bisogna ridere bisogna deridere c'è sempre la vittima una specie di capro espiatorio su cui lo scemo lo stupido molto spesso è così nella comicità l'umorismo invece quel sorriso l'umorismo rimanda a umore i quattro umori la medicina di Ipocrate e di Galeno la medicina antica l'umore e l'umore sano è esattamente ciò che ti dà buon umore e questo umorismo non è non ferisce non ferisce e se fa ironia è autoironia e quindi uno non lo dice agli altri ricordati che devi morire ma lo dice a se stesso mi ricordo che devo morire lo dice a se stesso e allora se fa questo se non usa la morte come terrorismo psicologico contro gli altri per rimettere paura e poi controllare le coscienze insomma si è fatto per secoli e secoli ma lo lo dice a se stesso mi ricordo che devo morire allora entra nell'ambito filosofico ed è quello che insegna Platone per esempio tutta la filosofia è questo è imparare a morire imparare che siamo finiti deporre questo atteggiamento di hubris l'hubris il peccato fondamentale cioè la tracotanza cioè non avere il senso del limite sono limitato sono finito ho iniziato finirò tutto ciò che inizia e quindi e quindi sono sereno Seneca dice così temere la morte è da stupidi come temere la vecchiaia la vecchiaia segue la giovinezza e la morte la vecchiaia se uno non vuole morire non vuole vivere la vita ci è stata data con la condizione della morte noi avanziamo verso di essa perciò è da passi temerla Montaigne la meditazione della morte è meditazione della libertà che ha imparato a morire ha disimparato a servire il saper morire ci affranca da ogni soggezione e costrizione e poi De Mello invece con il suo umorismo questo è veramente umorismo dice così a pagina 186 del libro messaggio per un'aquila che si crede un po' lo dice il modo per vivere realmente è morire il passaporto per la vita è immaginarsi nella tomba immaginatevi di giacere nella bara ora osservate i vostri problemi da quel punto di vista cambia tutto non è vero? che bella meditazione fatela ogni giorno diventerete più vivi cosa vuol dire immaginarsi nella bara? beh significa pensare appunto che si finisce un po' macaro forse io non ho mai provato e non non intendo farlo però significa sto litigando per il mio vicino per una cosa così pensa che sia io sia lui finiremo e che ci sono dati questi giorni e che possiamo viverli da esseri umani in armonia mi sto dando da fare per un grado in più per una cosa in più ma che cos'è al cospetto adesso voi trovate voi gli esempi di piccole cose di meschinità insomma questa prima parte della conferenza perché adesso io concludo la prima parte ci dice e ha inteso dire questo si può arrivare morti alla morte ed è quando non hai sviluppato la potenzialità effettiva di noi umani la potenzialità effettiva di noi umani si chiama libertà si chiama cultura che è natura più libertà dire libertà vuol dire rimandare alla consapevolezza l'esercizio della consapevolezza mi fa capire che sono finito sono nel senso di che non sono infinito che non sono infinito e quindi che finirò e questa cosa mette angoscia a qualcuno e non ci vuole pensare ma facendo così non si ottiene niente se non vivere una vita da polli una vita falsa e invece quello che devo fare è prendere atto e diventare consapevole e dire essere sì prendere atto dei miei limiti e accettarli e accettando i miei limiti e accettare la mia natura e vivendo conformemente alla mia natura io vivrò ogni minuto come la cosa più preziosa che c'è proprio perché non ritorna più proprio perché so che sono finiti proprio perché ne ho un numero limitato se voi avete di qualunque bene che potete pensare un numero illimitato potete prenderne quanti ne volete e beh non ci fate caso tutte le volte che volete una bottiglia di vino c'è la cantina lì piena e dice prendi quante ne vuoi e allora va bene stappiamo oggi stappiamo domani beviamo beviamo se ne hai tre allora starei attento e quando sorseggerai starei attento a quel vino come lo bevi ecco esempio non so se funziona o no ma questo era il senso per dire che cosa dà la consapevolezza non ti fa uscire dalla vita ti fa capire quanto sia prezioso ogni momento prezioso e mi viene in mente Seneca che dice all'ucilio proprio nella prima bellissima lettera con cui si apre l'epistolario dice all'ucilio collige et serba a proposito del tempo raccoglilo e conservalo come si fa a raccogliere il tempo il tempo sembra che fugge eppure si può raccogliere il tempo dentro di noi con il respiro con la meditazione con la consapevolezza trovare ogni giorno dei momenti di raccoglimento dove si raccoglie il tempo dove si capisce quello che si è fatto che cosa si è detto le emozioni che si sono vissute noi guardiamo tanti film leggiamo tanti romanzi le storie degli altri ma perché qualche volta non guardiamo il film della nostra vita di noi la sera quello che un tempo si chiamava esame di coscienza sì e questo vuol dire collige colligere il tempo raccoglierlo raccoglierlo e conservarlo e capire che è la cosa più preziosa che abbiamo la cosa più preziosa che abbiamo perché non tornerà più questa è la prima parte della conferenza forse sono un po' lungo ma pazienza per la seconda parte se intende rispondere a questa domanda va bene arrivo vivo alla morte ok arrivo e dopo cioè dopo che sono morto questa è la questione cioè quella quell'idea quella speranza che le religioni le filosofie le spiritualità unanimemente ciascuno a suo modo hanno di un messaggio dell'aldilà della vita futura a partire dagli antichi egizi la psicostasia la pesa dell'anima l'ingresso insomma queste cose è semplicemente oppio per consolare tutti noi impauriti oppure no oppure c'è qualche possibilità di chierirci le idee di c'è qualche cosa succede quando arriviamo alla morte poi la nostra vita in qualche modo prosegue oppure sì sono arrivato vivo ma poi basta finito chiuso e stop ecco bevo un po' d'acqua perché perché è normale insomma non lo sapremo mai è ovvio non lo sapremo mai non lo sapremo mai intendo dire non avremo mai sapere Kant è stato chiaro ha detto le cose più secondo me l'impostazione che io finora che ho trovato la più ragionevole la più chiara onesta la questione di Dio la questione della vita futura la questione dell'eternità non è oggetto di sapere è oggetto di speranza sono tre le questioni fondamentali Kant lo dice che riguardano appunto la mente umana il pensiero umano che cosa posso sapere che cosa devo fare che cosa mi è lecito sperare ecco queste queste sono le tre domande che voi trovate a pagina 803b 833 della seconda edizione della critica della ragione pura bene e questa questione la questione che adesso andiamo ad affrontare non sarà mai oggetto di sapere non ci sarà mai un sapere incontrovertibile quel sapere che è oggettivo che posso condividere che io condivido con lei con lei con lui condividiamo abbiamo un unico sapere e questo sapere lo possiamo rendere operativo quindi tecnico quindi efficiente quindi così e costruire su questo sapere delle cose e delle macchine eccetera questo non lo sarà mai però naturalmente possiamo discutere le varie filosofie di vita e di morte non c'è nessuna filosofia di vita che non contempli anche che non abbia in sé nella misura in cui è una filosofia di vita che non abbia in sé le idee sulla morte perché è chiaro la morte è parte della vita è l'ultima pagina se la vita è un libro è un libro l'ultima pagina del libro della vita si chiama morte e allora dobbiamo tentare di mettere ordine insomma in questa in questa questione per tentare di farvi farò capire se riuscirò perché ho preso punti un po' confusi qua non so se riuscirò se sarò sempre chiaro e se non sarò chiaro pazienza è venuta così ecco per per fare in modo di sì lo status questionis per farvi capire quali sono le questioni fondamentali rispondere alle quali nella vostra interiorità in quella dimensione che Nietzsche chiamava dinamite la possiamo chiamare psiche cuore coscienza in quella dimensione emotiva sentimentale profonda che riguarda il vostro sentire sentimento rispetto alla vita ecco in quella dimensione lì voi io vi offro tenterò di offrirvi degli elementi per rispondere a una posizione oppure a quella con una con una prospettiva oppure con un'altra cioè la prospettiva che dice che arrivando vivi alla morte proprio perché sono arrivato vivo e buono e giusto alla morte non sono arrivato alla fine sono arrivato alla fine di una fase della mia esistenza ma non alla fine dell'essere perché l'essere non può non essere e quindi c'è una forma con cui prosegue anche nella proprio nella mia dimensione interiore nella mia consapevolezza in quel miracolo che si chiama coscienza oppure no oppure con quello anche la coscienza viene meno ora la domanda decisiva che da porre è la seguente da dove viene la coscienza da dove viene la consapevolezza questa è la domanda fondamentale per rispondere alla quale noi avremo gli elementi non stringenti non cogenti ma come chiamarli esortativi ecco sì alcuni comunque avremo gli argomenti gli argomenti per scegliere una plausibili ecco gli argomenti più o meno plausibili per scegliere o no una prospettiva da dove viene la coscienza da dove viene l'anima da dove viene lo spirito da dove viene quella dimensione immateriale quella energia immateriale che è dentro di noi che è dentro di noi e che e che ci permette di essere liberi a differenza dei lombrichi a differenza dei polli anche a differenza delle aquile e ci fa essere aquile nel senso traslato del termine cioè liberi cioè consapevoli creativi responsabili perché lo siamo lo siamo perché siamo consapevoli ma da dove viene questa consapevolezza da dove viene viene dalla materia o la materia a sua volta in un certo senso proviene da questa consapevolezza da dove viene lo spirito la coscienza la mente da dove viene la mente ci sono tre possibilità secondo me di rispondere a questa domanda la prima è che questa dimensione immateriale di energia intelligente che potete chiamare mente coscienza consapevolezza spirito mente l'ho già detto psiche eccetera di intelligenza libera energia intelligente intelligenza libera questa cosa qui provenga da dio cioè da una dimensione sopra il mondo c'è la dimensione materiale la dimensione materiale è dimensione materiale da questa dimensione materiale non proviene l'anima l'energia libera intelligente che si chiama mente non proviene proviene da altrove proviene da un'altra dimensione da dio e dio che l'ha immessa nel nostro mondo e sarà compito di dio poi suscitare la salvezza di questa prospettiva sarà compito di dio salvarla visto che l'ha immessa in un ambiente estraneo in un ambiente dove questa in un ambiente non vitale non vitale o perlomeno non tale da essere vitale da conservare la vita la seconda prospettiva è quella da dire beh viene dal caso è semplice viene dal caso la mente è un colpo di fortuna la vita la vita intelligente la vita libera la vita consapevole è un colpo di fortuna incredibile un jackpot chimico e prima ancora fisico inimmaginabile un colpo di fortuna un caso c'erano tutte le probabilità contrarie è arrivata è arrivata non così è sorta per caso ed è quello che la gran parte diciamo così della comunità scientifica ritiene non solo scientifica è che la vita sia venuta per caso sia apparsa per caso su questo nostro pianeta prima si pensava che venisse da Dio adesso si pensa che viene dal caso queste sono le due possibilità e capite che in entrambi i casi la sopravvivenza della vita libera con dell'anima è affidata a un cioè nel secondo caso non c'è proprio siccome è avvenuta per caso la vita a seguito di un colpo di fortuna chimico è chiaro che si trova in un ambiente ostile la mente lo spirito si trova in un ambiente ostile e quindi verrà meno il caso ha finito di esprimere la propria potenzialità il fenomeno ha finito di esprimere le proprie potenzialità sorte per caso e ci sarà il ritorno a casa da dove la casa è la materia e forse alla fine anche la materia tornerà da dove è venuta cioè dal nulla il nulla nihil nichilismo questa è la seconda prospettiva la prima prospettiva dice no viene da Dio e quindi Dio ha creato qualcosa di originale di intenso e la stessa cosa farà e quindi perché ci sia la salvezza di questa della nostra anima occorre un intervento altrettanto straordinario di Dio ed è quello che per esempio il cristianesimo dice con la risurrezione di Cristo Cristo risorgendo ha vinto la morte ha spezzato il potere della morte e quindi è la risurrezione di Cristo che ha aperto la risurrezione di Gesù o di Cristo insomma lui che ha aperto le acque nere dell'essere di per sé ci sono queste acque nere dell'essere però questa risurrezione è aperto e noi possiamo passare proprio come l'esodo degli ebrei noi possiamo passare entrambe questa prima prospettiva suppone un colpo di fortuna un colpo di fortuna a metà del processo un colpo di fortuna dato esattamente dalla risurrezione qualcosa che immette una logica diversa rispetto alla logica naturale suppone uno strappo rispetto alla logica naturale e questo strappo è dato dalla risurrezione l'altra prospettiva suppone lo strappo all'inizio lo strappo lo strappo è dato dal colpo di fortuna chimica che è inspiegabile ma è avvenuto per caso di per sé l'universo non è bio amichevole di per sé l'universo non è fertile di per sé l'universo è ostile rispetto alla vita la coscienza la libertà e quindi la vita la coscienza la libertà che c'è cioè tu cioè voi perché noi siamo vita coscienza e libertà noi ci troviamo in un ambiente ostile siamo sorti per caso in un ambiente ostile e questo ambiente ostile alla fine riprenderà il possesso su di noi ecco avrete capito che io non sono né per la prima né per la seconda prospettiva io sono per sostenere che la vita consapevole è sorta su questo nostro piccolo pianeta perché doveva sorgere la vita è sorta dalla vita la vita c'è sempre c'è sempre stata non è un miracolo che sorge dall'alto non è neanche un colpo di fortuna chimica la vita è connaturata all'essere stesso adesso vi leggo dieci righe di uno dei fisici più importanti del nostro paese probabilmente molti di voi avranno letto il suo libro il nome è Federico Faggin ha scritto un libro allora chi è Federico Faggin? Federico Faggin è nato un fisico italiano è nato a Vicenza nel 1941 e se voi quando prendete in mano il cellulare e fate così sullo schermo sullo screen lo dico opposto screen per dire schermo fate così fate touch sopra lo screen e succede qualcosa ecco voi dovete sapere che l'inventore di questa diavoleria che vi permette di toccare col dito e di combinare di operare è lui ha vissuto in California Silicon Valley per tanto tempo collaborato con Steve Jobs immagino che abbia avuto anche tanto successo economico e professionale e cose del genere bene ha scritto un libro pubblicato l'anno scorso dalla casa editrice Mondadori dal titolo Irriducibile che cos'è Irriducibile? La coscienza la vita è un'espressione della coscienza e non della materia inanimata scrive a pagina 103 cioè la vita la mia interiorità non viene per caso dalla materia non viene neanche da una dimensione altra ma viene da qua viene da questo impasto miracoloso che si chiama essere che da subito è cosciente da subito è consapevole da subito è nus diceva Anasagora perché sono idee antiche antichissime certo adesso le ripete un fisico che conosce perché tutto si basa sulla meccanica quantistica non chiedete a me di argomentare a livello di meccanica quantistica non è il mio mestiere a Milano dove sono nato e cresciuto si dice ofele falto mestè che per chi non abbia capito vuol dire tu che sai fare una cosa le ofele in questo caso quei dolci a forma di mandorle di ovali così fai quelle cose lì è inutile che ti espandi di etimetica ecco io mi limito a leggervi quello che lui dice a pagina 20 che fa capire una cosa che fa capire che si può essere oggi totalmente consapevoli dello stato della scienza e della fisica e della meccanica quantistica e della teoria della relatività e di tutte quelle cose e credere 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 non sapere credere perché qui non c'è incontrovertibilità e credere che con la morte non tutto finisce non c'è tempo ma io potrei leggervi anche pagine di Heisenberg il padre del principio di indeterminazione che era un credente che a sua volta pensava questo Wittgenstein pensava questo ecco quindi non è una superstizione da vecchiette da persone che non conoscono come stanno le cose nel mondo ma è una speranza che è custodita nell'anima nel cuore da persone che conoscono effettivamente le leggi della fisica e non solo le conoscono ma le sanno utilizzare per fare tutte quelle cose la tecnologia touchscreen e altre cose che ha fatto microprocessori e così via che vi ho detto bene adesso voi sentirete questo racconto sono 10-20 righe di questa esperienza personale e basta sentirete e poi io trarrò le conclusioni nel dicembre nel dicembre mentre ero al lago Tahoe con la mia famiglia durante le vacanze natalizie mi svegliai verso mezzanotte per bere mi versai un bicchiere d'acqua dal frigorifero della cucina e sorseggiando mi spostai nel soggiorno adiacente per contemplare il lago oscuro e misterioso tornato a letto mentre aspettavo di riaddormentarmi sentii improvvisamente un'energia fortissima emergere dal petto era non solo un'esperienza mai provata prima ma un fenomeno così straordinario che non avrei mai potuto immaginare questa energia viva era amore ma un amore così intenso e così incredibilmente appagante che superava ogni sentimento e nozione che avevo sulla natura dell'amore ancora più incredibile era il fatto che la sorgente di questo amore fossi io si manifestava come un ampio fascio di luce bianca e scintillante viva beatifica che sgorgava dal mio cuore con una forza incredibile poi all'improvviso quella luce esplose riempì la stanza e si espanse fino ad abbracciare l'intero universo con lo stesso bianco splendore ho capito allora senza ombra di dubbio che quella è la sostanza di cui è fatto tutto ciò che esiste e ciò che ha creato l'universo partendo da se stessa poi con immessa sorpresa riconobbi che quella luce ero io l'intera esperienza durò un minuto però mi cambiò irreversibilmente allora non è un pellegrino che ha fatto il cammino di Santiago che è stanco non è uno che va a Medjugorje è quello che ho detto e cosa avete capito da questa non lo so cosa avete capito ma cosa dice questo testo ma questo testo racconta è stata un'esperienza un'esperienza nella quale si percepisce che all'interno di noi nella profondità di noi non c'è non c'è solo quello che noi pensiamo noi moderni e postmoderni pensiamo cioè l'inconscio di cui parlava Freud in termini di es questa cantina buia piena di esseri di sogni spezzati di incubi magari di topi magari di ragni questa cantina che chiamiamo inconscio che produce incubi oppure illusioni no no nel profondo di noi se scendiamo dentro noi stessi se facciamo questo lavoro di consapevolezza noi possiamo capire che sentire sperimentare sperimentare o in questa forma diretta o magari in una forma meno diretta ma comunque altrettanto veritiera che siamo all'interno di un discorso di una sintassi di una grammatica il cui senso complessivo è l'amore è la luce non il buio non le tenebre l'amore che l'essere è fatto di legami di legami di connessioni e la più grande legame la più grande connessione il più grande amplesso è l'amore e quando un essere umano è consapevole di questo e vive secondo questa logica e arriva vivo alla morte morendo con la sua dimensione fisica può pensare che questa dimensione che lui ha servito e ha voluto custodire e proteggere questa connessione straordinaria di legami che si chiama amore lo accolga che questa luce bianca da cui proviene l'universo ecco che è stata sperimentata da questo fisico e da tanti mistici e da tanti altre persone prima di lui e che questo amore sia effettivamente la sostanza di cui sono fatte tutte le cose come lo dice qua è la sostanza di cui è fatto tutto ciò che esiste e ciò che ha creato l'universo partendo da se stessa allora non c'è bisogno di pensare a colpi di fortuna o colpi di fortuna chimica caso un caso e allora la mente viene appunto per caso ma poi sarà ridotta a zero quando arriverà la morte taglierà la falce taglierà non c'è bisogno di pensare questo non c'è neanche bisogno di supporre interventi straordinari miracolosi il vero miracolo è qua questo è Dio che cosa ha sperimentato facendo Dio Dio che è dentro di lui certo dici ma è dentro di lui certo perché dove abita Dio ricordate Sant'Agostino De vera religione 39 72 noli foras ire in te ipsum redi in interiore omine abitat veritas non uscire fuori di te ritorna rientra dentro te stesso la verità abita nell'uomo interiore nell'interiorità e quello che dice Sant'Agostino lo dice il Buddha quando parla dell'isola del sé il Buddha che dice ad Ananda il cugino Ananda dice Ananda prendete rifugio nell'isola del sé solamente nell'isola del sé non in altri e poi pone l'analogia l'equivalenza anzi tra isola del sé e Dharma quindi prendere rifugio nell'isola del sé non è prendere rifugio nell'isola del mio ego del mio egoismo io Dio Dio no non è questa cosa qua equivale al Dharma cioè quando io sono profondamente connesso con la mia forza vitale io sono connesso con il centro del mondo l'atto più intimo che posso fare la preghiera è ancora più intima dell'atto sessuale perché l'atto sessuale lo fate in due la preghiera lo fate da sola la vera preghiera quella vera poi si si può andare in chiesa si prega con gli altri in chiesa in sinagoga una preghiera comunitaria ma la preghiera vera è quella di cui parlava Gesù quando vuoi pregare il padre tuo entra nella tua camera e chiudi la porta e chiudi la porta e stai solo nel segreto il padre tuo che vede nel segreto ti riconoscerà ecco quando sei in questa dimensione è l'atto più intimo ma è anche l'atto più universale perché sei a contatto con il centro del mondo ecco la grande speranza dice cosa ho dimostrato niente non l'ho detto prima non c'è nessuna possibilità di dimostrare nulla ho però argomentato a favore del fatto che chi di voi in questa sala crede che con la morte non ci sarà la fine e ci sarà invece l'ingresso in questa dimensione di luce bianca così la parlata la fagina altri ne parlano in altre maniere chi crede questo non è un illuso minus abens una persona che ha paura della vita che non ha capito niente dell'essere no è una persona che scommette sul lato ottimistico dell'esistenza ci sono argomenti plausibili per credere per avere fiducia nella vita per pensare che la vita non tradisca che cos'è la vita la vita è una serie di connessioni è una serie di relazioni a partire dagli atomi che si relazionano tra di loro anzi prima ancora degli atomi le particelle subatomiche elettroni neutrini protoni eccetera che si relazionano e formano gli atomi poi questi si relazionano e formano le molecole poi si relazionano le molecole quante volte che ho detto queste cose e si relazionano le molecole formano una serie di particelle che formano le cellule logos logos enarche enologos in principio era il logos cosa vuol dire in principio l'inizio vuol dire che il principio costitutivo del mondo è la relazione armoniosa allora quando uno vive in connessione con questo spirito della relazione armoniosa quando vivi così può succedere che arrivi vivo alla morte di sicuro e può succedere che la morte non sia la morte che sia appunto quello che le religioni pensano alcune religioni tutte anche il buddismo che è la religione diciamo più disincantata più filosofica e così via pure il buddismo parla di nirvana la reincarnazione alla fine è un nirvana cioè di una di un ingresso in una dimensione che non è essere non è non essere è un'estinzione un'estinzione di tutte le categorie comprese quelle negative non è il nulla è il vuoto semmai il vuoto ma il vuoto lo dicono sempre i fisici è ciò da cui origina il tutto è il vuoto quantistico dicono i fisici per esempio Tonelli in tutti i suoi libri ripete questa cosa il vuoto è il contrario di quello che noi normalmente pensiamo vuoto vuol dire non c'è dentro niente no il vuoto vuol dire che c'è dentro tutto e quindi sì certo Dio lo puoi pensare come vuoto anzi forse è l'unica maniera per pensarlo veramente in maniera non antropomorfica ma 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 questo volevo dirvi questo vi volevo dire e allora voi capite e concludo voi capite e concludo che gli assenti non sono assenti sei vera questa cosa è quello che dicevo all'inizio sei vera questa prospettiva esiste una presenza che va al di là della materia esiste una presenza che è più preziosa di quella che viene dalla materia io non ho niente contro la materia la amo tantissimo in tutte le sue manifestazioni tutte chi ha letto ma che ne so l'anima è il suo destino ma anche tutto io sempre celebro la materia in tutte le sue forme quindi nessuna nessuna inemicizia nei confronti del corpo della dimensione materiale niente di niente e però e però è quello che ho detto insomma è quello che ho detto esiste una dimensione più profonda che è l'energia è l'energia vitale che è è l'essere non materiale che in noi si manifesta come anima psiche e così via e in questa dimensione gli assenti non sono assenti gli assenti non sono assenti grazie dell'attenzione grazie grazie a tutti grazie a tutti